In questo caso nasce una collaborazione tra Pesaro, capitale della cultura, e ANMIC, che è l'Associazione Nazionale dei Mutilati e Invali di Civili, che ha elaborato una locandina da lasciare agli albergatori per poter dare indicazioni a chi ha una disabilità motoria che viene in visita a Pesaro e che vuole raggiungere i maggiori luoghi della cultura, quindi fare un giro in Viale Trieste, andare a osservare la nostra palla di pomodoro per poter raggiungere la casa di Gioacchino Rossini, e quindi indicazioni sulla viabilità, capire se il terreno è un terreno pianeggiante, se c'è il ciotolato, se abbiamo degli autobus, quali autobus hanno la pedana, se ci sono altre possibilità, avere un'indicazione per l'utilizzo del SOS Taxi oppure per l'utilizzo della Bici Amica, che è una bicicletta che il Comune di Pesaro ha acquistato per sollevare le carrozzine, quindi tutta una serie di indicazioni precise e puntuali che Amica ha elaborato in collaborazione con la Capitale da poter lasciare agli albergatori. Questa locandina nasce per proporre delle iniziative che possono fare le persone con disabilità motoria, perché il focus è stato centrato su di loro. L'obiettivo poi è ampliare, cercare di prendere tutte le categorie possibili di disabilità. Infatti questo è un punto di partenza. Questa locandina offre delle possibili mete per visitare la città di Pesaro o comunque luoghi più comuni, più iconici e ti spiega cosa ti troverai di fronte, il tipo di terreno, il livello di accessibilità, perché se parliamo di centro storico è logico che sia diverso rispetto al Monte San Bartolo. Quindi questa guida aiuta a capire come affrontare la meta che vuoi visitare.